ciao a tutti benvenuti benvenuti cari amici di dialoghi interiori ciao martina subito il primo commento allora innanzitutto un messaggio per chi seguirà la diretta non giovedì ma in qualsiasi altro giorno può saltare i primi cinque minuti perché aspetterò che si crei un gruppetto e accendo la candela introduco la nostra ospite e leggo i vostri commenti dopo cinque minuti iniziamo buonasera adesso aspettiamo anche fabiana e poi vediamo se ci sta forse magica emi questa sera come state ragazzi e ragazze questa sera affrontiamo un argomento molto molto delicato ciao francesca ciao mimma ciao alessia buonasera una un argomento molto delicato come quello del narcisismo come malattia del secolo chiaramente voi sapete già di cosa parliamo altrimenti non sareste qui con noi ma andiamo con la nostra antropologa francesca serra a mettere una diciamo una lente di ingrandimento sulle dinamiche proprio sociali e culturali ciao fabbi buonasera ciao susanna come state ragazzi e ragazze spero vi avverte vi avverte youtube della della diretta ciao manu ciao claudia perché con questo con questa piattaforma buonasera stefania non so se vi arriva la notifica comunque tra pochissimo chiamiamo anche francesca ciao elen ciao iside ciao guenda ciao liliana ah ok vi avverte bene perché è sempre un ciao maria ci avverte ok bene intanto accendiamo la nostra candela come sempre la nostra candela cicciona come la padrona che possano tante belle cose entrare nella nostra esperienza e che possano tutte le informazioni che ci scambiamo essere utili a costruire una sorta di corazza per quella che è la manipolazione ciao susanna ciao stefania ciao rietta ciao isabella ok vi è arrivata la notifica quindi vuol dire che funziona innanzitutto vi voglio presentare francesca che è un'antropologa e si occupa di medicine olistiche legate alla figura di il de garda di bingen vela eccola qui ciao franci buonasera buonasera ciao 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 nonché da tredici anni quattordici anni quindici anni ma come ricordo più abbiamo condiviso una casa per un periodo breve ma sì anche è vero è vero e tante cose ciao monia ciao luisa ciao angela ciao bernadetta ciao manu buonasera ti salutano franci tanto io poi dopo comunque metterò saluto tutte e io vi seguo seguo giulia da tanto tempo e ricordo quando è nato poi proprio il nome del blog che era dialoghi interiori a giulia ti ricordi dove iniziavi a raccontare tutte le tue esperienze personali e tante tragedie tanti percorsi tante analisi che sono state fatte tanto lavoro che hai fatto su te stessa che ti ha portato poi a questo meraviglioso progetto di condivisione e devo dire che ha avuto una grande costanza e una grande capacità nel mettere insieme tutte le informazioni che avevi raccolto per capire tu quello che ti stava succedendo e quindi l'hai poi generosamente ricondiviso con tutti noi a te ti devo ringraziare perché undici anni fa mi hai donato mi hai prestato una serie di libri che mi hanno aperto un mondo non relativi al narcisismo relativi ad altre tematiche che però mi hanno aiutata ad aprire la mente a vedere le cose sotto un altro sotto un altro profilo quindi la giulia di oggi ti deve comunque molto quindi grazie 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 a te e ci facciamo i ringraziamenti a vicenda però quello che ci ha aiutato ad entrambe è stato tutto il lavoro che abbiamo fatto anche sugli alberi genealogici quindi secondo me poi prendere in considerazione nelle nostre relazioni comportamenti e affettive emotivi che hanno avuto le nostre nonne le nostre madri e relazionarle alla ai nostri è un lavoro che consiglio di fare a tutte perché il gap generazionale nostro di noi donne del ventunesimo secolo che abbiamo studiato che abbiamo lavorato su noi stesse che siamo state vittime anche a volte carnefici non lo dimentichiamo perché anche noi avremo abbiamo fatto soffrire non abbiamo soltanto sofferto e quindi tutto questo credo che sia da mettere a fuoco e capire quello che è successo con un secolo dove tanti sono stati gli stravolgimenti nel modo di concepire i rapporti fra uomini e donne no l'emancipazione femminile l'autonomia economica eh Virginia Woolf diceva una donna deve avere una stanza tutta per sé per scrivere ma anche una cospicua rendita e sappiamo che tante volte le donne non possono uscire da rapporti abusanti o manipolatori proprio perché non hanno l'autonomia economica sì questo è un tassello importantissimo io volevo innanzitutto dire questo che noi parliamo io poi lo sottolino sempre in tutte le dirette parliamo di narcisismo è chiaro che è un contenitore grandissimo dove noi infiliamo la qualsiasi spesso eh si parla invece di personaggi che sono solo stronzi lo possiamo dire tanto ormai il termine è sdoganato oppure magari personaggi che hanno altri tipi di di patologie possono essere per esempio borderline o bipolari avere dei tratti narcisistici è chiaro Francesca tu mi insegni che narcisistici sono sempre stati in qualsiasi eh secolo in qualsiasi eh periodo storico proprio perché è una patologia psichiatrica quindi non ci stiamo inventando niente però questo secolo specificatamente cioè questa era storica ha tutta una serie di eh diciamo di ehm passaggi che facilitano l'attecchimento l'attecchirsi di questa patologia o comunque di insomma fa sì che noi incontriamo molto più facilmente personaggi che poi hanno una un problema con l'empatia ci puoi fare tu un discorso che ci fa comprendere meglio? Allora intanto la più grande sfigata vittima del narcisismo è stata Bridget Jones la quale scrive quando un uomo ti lascia a parte sentirne la mancanza a parte il fatto che tutto il piccolo mondo che vi eravate creati crolla e tutto quello che fai o vedi te lo ricorda la cosa peggiore è la consapevolezza che lui ti ha messa la prova e alla fine la persona che amavi ha messo sulla somma delle parti che ti compongono il terribile timbro di respinto proprio come se fossi un oggetto su un esposto sul bancone del supermercato torno indietro torno ad un meraviglioso film di Federico Fellini che è otto e mezzo in cui c'è una scena che voi potete andare a ricercare anche online e dove la protagonista Claudia Cardinale in macchina con Marcello Mastroianni fa un discorso meraviglioso vanno credo a San Galgano in questa abbazia e Mastroianni dice alla Cardinale siamo negli anni 50 ma sai quando pensi che è finito il tempo in cui tu ti possa innamorare di una donna perché chissà quante altre ce ne possono stare e tu sai che anche se vuoi bene una donna perché ti dovresti fermare con quella donna chi te lo dice che in quella è la donna giusta per te che non ce ne sia un'altra che non è lei la donna della tua vita e la Cardinale quando arriva a San Galgano e si siede gli dice una cosa semplicissima basta solo che tu le voglia bene basta solo che tu le voglia bene cioè che tu scelga aggiunge che tu scelga di volerle bene e questo è il grande snodo secondo me intanto abbiamo detto prima il narcisismo è sempre esistito e pensiamo ad un narcisismo esponenziale e diciamo di personalità come quella dei grandi condottieri di grandi figure storiche come possiamo non non credere o non ipotizzare che Giulio Cesare Napoleone non fossero dei grandi narcisisti non avrebbero neppure raggiunto i traguardi della loro vita perché molto spesso al narcisismo comunque si collega il potere no si collega la capacità di sedurre di manipolare della fascinazione e poi cosa è accaduto è accaduto e ce lo spiega bene Eva Illuz che è una sociologa molto molto vicina al pensiero di Bauman che ha fatto questo grande lavoro sull'amore liquido quindi sull'amore non strutturato sull'amore che può cambiare completamente così come una vita liquida che è quella che stiamo vivendo è precaria e che ci porta a un totale sradicamento dei nostri affetti del senso della nostra esistenza e allora cosa ci dice la Illuz che quello che prima era la portata solo di alcuni ceti sociali oggi è alla portata di tutti ovvero il più meschino povero ridicolo altrettanto meschina povera ridicola di qualsiasi estrazione sociale culturale può permettersi di avere un ricambio di persone con cui condividere un pezzo di vita non dico affettiva a volte meramente sessuale e sentirsi comunque il Marcello Mastroianni della situazione perché perché in un certo senso quello che si è democratizzato è la possibilità di poter avere quante più persone possibili a disposizione nello scambio continuo di quello che è il mercato delle emozioni pensate scusami basta un poco di zucchero che chiede cosa si intende per amore liquido si intende appunto questo amore che non è strutturato su sentimenti e scelte e durature come poteva essere il matrimonio quello borghese il matrimonio delle culture patriarcali il matrimonio dei nostri nonni per intenderci rispetto a tutta una sequenza di relazioni continue che noi cambiamo nell'arco della nostra vita per cui viviamo questa che è una dimensione di liquidità proprio come un'acqua che si sposta all'interno di un contenitore e dove nulla è stabile e quindi di conseguenza quello che ci viene proposto è il fatto che e mi è stato proprio detto a me da un uomo è tutto liquido perché deve esserci un amore stabile voi capite che tantissime patologie nascono proprio dalla perdita dell'orientamento da fattori di distrazioni continue che noi abbiamo all'interno dei supermercati all'interno dei centri commerciali e all'interno della sequenza dei prodotti sentimentali 50 milioni di persone sono collegate su Tinder significa che tu hai un avete mai visto Tinder è come un catalogo io lo chiamo il love market tu giri sfogli e dici sì mi piace lo prendo lo provo se non va bene ce n'è subito un altro di sostituzione questo è la base del fenomeno narcisistico così come noi lo stiamo vivendo se Marcello Mastroianni che interpretava comunque un intellettuale che era Fellini che era Federico Fellini che poteva permettersi di fare le sue esperienze un po' come i grandi poeti maledetti del novecento come figure come Picasso pittori scultori la stessa Frida Kahlo quello che ha sofferto con Diego Rivera circola su internet quella famosa poesia su come uno desidererebbe essere amato bene questi personaggi che comunque ci hanno anche educato ad un tipo di attraverso la letteratura ad associare l'amore alla sofferenza no i grandi amori comunque sono legati sempre alla sofferenza sono legati comunque sempre a questa grande l'abilità emotiva questo noi l'abbiamo il rifiuto il rifiuto il rifiuto questo l'abbiamo introiettato con il cinema cioè l'abbiamo fatto nostro attraverso il cinema la letteratura per certi versi anche le fiabbe anche se poi le fiabbe lavorano su un discorso più alto non le immettiamo in questi meccanismi io ho fatto due dirette sulle favole però poi te le andrei a vedere sia quelle giapponesi che quelle della Disney perché hanno fatto un casino sulle nostre aspettative in realtà il principe azzurro non è non è il bel ragazzo che arriva sulla Porsche non è Richard anche la stessa pre tv ma non dice voglio di più voglio la favola perché appunto pensiamo che poi il vissere felici e contenti in realtà non è mai stato così in ogni tempo il matrimonio il matrimonio è sempre stato un discorso legato alla stabilità della società delle della famiglia delle relazioni e spesso comunque era governato e gestito sia dalle famiglie che utilizzato come uno scambio economico in tutte le culture altre il matrimonio avviene sempre per uno scambio economico nel novecento comunque nasce questa grande libertà del matrimonio legato comunque all'innamoramento che è quello che abbiamo e ci siamo aspicati tutti e che però poi per molti versi non ha funzionato non funziona non funziona perché comunque le pressioni che abbiamo avuto le pressioni legate al consumismo al capitalismo al neoliberismo economico ci hanno portato comunque ad assumere quegli atteggiamenti per cui tutti possiamo cambiare tutto appunto nella vita liquida in qualsiasi momento poi in realtà ci rendiamo conto che tu non sei berlusconi che non sei neanche marcello mastroianni che al massimo finisci sul divano di mamma dopo che ti sei separato e se ti sei separata al massimo finisci a mangiare la pizza con le amiche sotto casa che devi affrontare le cose reali dell'esistenza quindi l'educazione dei figli la precarietà economica da sola che tutti i fidanzati che avevi immaginato poi sono tutti troppo giovani per te perché improvvisamente tu diventi troppo vecchia e che tutto quello che ci hanno raccontato era una grande balla perché l'amore è un'altra cosa l'amore presuppone una crescita di coppia una crescita comunque di di ed una scelta che tu fai ogni giorno nel accompagnarti a quella persona anche per affrontare quella che è la grande prova dell'esistenza e manca proprio manca proprio un impianto etico in questo momento storico manca un impianto etico ad esempio nell'ottocento una donna accettava il corteggiamento di un uomo solo perché aveva la certezza emotiva quella certezza emotiva le permetteva di accogliere quel corteggiamento e di fidarsi di quell'uomo il corteggiamento aveva una vera e propria struttura rituale era un rito dove tu comunque eri protetta e non c'erano le incertezze e le ambiguità che sono invece quelle che regolano tutte le relazioni moderne di stampo narcisistico il primo elemento del narcisista qual è a parte il love bombing iniziale di cui tu ci hai parlato a lungo è sempre l'ambiguità ovvero lasciarti credere una cosa e poi però nel comportamento farne un'altra e questo ottavio rosati un grande psicanalista che abbiamo conosciuto ci ha insegnato che è il doppio legame cioè io ti dico fa caldo fa caldo e intanto vado a chiudere la finestra e tu impazzisci perché tu vedi che io sto chiudando la finestra però a parole ti sto dicendo che fa caldo quindi non hai più la percezione di fidarti delle tue impressioni di fidarti di te stessa e questo avviene anche grazie a tutto quell'impianto che è quello poi della psicanalisi freudiana per cui le percezioni delle bambine erano legate o a una bugia o a un'isteria quindi freud il patriarcato ovvero la legge dei padri pensiamo ai nostri nonni contatini che battevano i loro figli li legavano agli alberi li frustavano quanti quanti uomini che magari abbiamo conosciuto hanno subito questo da piccoli non perché questo poi li giustifichi nei loro comportamenti però tutti portiamo comunque dietro questo genere di ferite legate all'educazione che abbiamo ricevuto quella della pedagogia nera infatti stai rispondendo volento anche a questa domanda no secondo lei da dove ha origine questa erronea idea che l'amore sia sofferenza proprio da questi episodi qui che abbiamo vissuto che abbiamo e che hanno vissuto anche i nostri genitori in in età di infanzia sì è una sorta di 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 porno romanticismo no per cui ehm se è un grande amore deve per forza farti soffrire ricordiamoci quel libro bellissimo che è donne che amano troppo dove appunto quando c'è poi una figura eh con dipendenza in famiglia che possa essere un padre o una madre magari legati all'alcolismo o alla droga o agli psicofarmaci o al gioco d'azzardo molto spesso noi eh incarnando quello che è il ruolo delle croce rossine andiamo sempre a cercarci o il bello e dannato o il bello impossibile e è ovvio che ehm fino ad un certo punto queste figure fanno presa soprattutto su donne giovani perché usano una fascinazione che poi ma io molto spesso sento uomini citare delle cose così banali e poi scopro per darsi tono scopro che l'hanno prese da Bukowski cioè questo mito di di riportare le frasi di Bukowski perché Bukowski è considerato il bello impossibile per eccellenza o sannare Hemingway era un bipolare o sannare Neruda Neruda ha avuto una figlia poveretta handicappata e macrocefala l'ha fatta morire di fame a lei e sua madre ed è scappato con una donna di vent'anni o sannare Picasso che ha fatto impazzire le sue donne Diego Rivera che ha fatto morire di dolore Frida Kahlo sì sì sono tutti così in effetti sono prototipi di figure maschili Fellini che chissà quante corna avrà messo lo stesso Fellini alla Mosina che era comunque soltanto il suo riferimento eh materno ma è stato per tanti anni l'amante sappiamo di 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 numerose attrici quindi questo archetipo e vi consiglio di vedere i film di Sorrentino la grande bellezza perché è un film proprio sul narcisismo e loro loro che sono i due film su Silvio Berlusconi sul periodo berlusconiano quindi su questo mondo appunto di 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 questo uomo eh anziano che comunque continua a a nutrirsi di giovani donne e che ha dato un imprinting di di seduzione di di relazioni che anche eh il più sfigato eh del degli sfigati si porta comunque appresso perché si mette su Tinder la sua foto al lume di candela con le ostriche davanti col bicchiere di champagne incarnando il piccolo Berlusconi virtuale quindi questa è proprio una simulazione e un'emulazione di quelli che sono eh dei eh prototipi o archetipi che purtroppo noi italiani abbiamo assorbito io ti chiedo questa domanda che la faccio a te questa mh questo narcisismo secondo te è molto dei paesi latini mediterranei perché lo stampo patriarcale più forte eh è ancora di più italiana per il famoso pappagallismo italiano per cui già negli anni cinquanta sessanta i maschi italiani dovevano comunque filtrare ehm fil fare i filarini filaroni con tutte oppure oppure eh 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 lo ritrovi anche nei paesi anglosassoni beh eh ti chiedo Giulia è molto mediterraneo sì secondo me è tipicamente mi dicono che nel allora mi dicono che negli Stati Uniti mh quello che noi stiamo vivendo adesso con con i social con Tinder con gli amori virtuali che sono sempre più precari e sempre più violenti e brevi ehm loro lo vivono già da 15-20 anni e sono abituati a questo ricambio continuo cioè non c'è proprio neanche il tempo di fingere ecco sono molto più onesti e diretti noi ancora utilizziamo quelle che sono le tattiche comunque di un minimo di seduzione poi trovi anche quello che ti dice cerco solo una per andarci a letto o uno per andarci a letto sono sposata voglio un amante perché non dimentichiamo che ci sono anche tante donne narcisiste io adesso sto mettendo tutto nel calderone eh però il narcisismo vero e proprio è quello proprio psicopatologico dove tu subisci continuamente svalutazioni vieni indannata perché inizialmente eh ti si lascia credere che tu sia l'amore della vita il rifiuto fisico molto spesso l'allontanamento fisico quindi relazioni in cui non ci sono più rapporti sessuali per molti anni tradimenti eh questo questo si ci chiede mimma ma non è che questa sofferenza nasca anche dall'educazione religiosa eh no secondo me no perché ehm l'educazione religiosa l'educazione cattolica cristiana in realtà non fa distinzione tra maschio e femmina ma ce lo dice anche San Paolo comunque sia l'uomo che la donna devono prendersi equamente cura l'uno dell'altro pensate che eh diciamo agli inizi la 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 il cristianesimo è stato proprio scelto e amato profondamente dalle donne prima di tutto perché per loro era una via d'uscita da matrimoni combinati cioè era meglio monacarsi era meglio morire martire che non sposarsi a a quello che ti proponevano la tua famiglia era comunque un 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 modo per viaggiare per eh prendersi cura degli altri e mh e e sempre la chiesa ha dato l'impostazione della reciprocità cioè l'uomo deve proteggere la donna e e e la donna prendersi cura dell'uomo sono molto paritari in una visione teologica e filosofica e direi che poi c'è manipolazione pure in questo c'è manipolazione pure in questo ma secondo me la matrice patriarcale invece è quella più violenta la matrice patriarcale che è quella appunto del pater famiglia perché però ci viene dal mondo romano attenzione non ci viene dall'ambito cristiano quella è proprio una matrice ehm nostra del del periodo classico eh pensiamo alla figura delle donne sia nel mondo romano che nel mondo greco completamente svalutate a parte le vedove ricche che poi diventano talmente ricche le le vedove dei senatori da donare gran parte dei loro averi alla chiesa la chiesa cattolica nasce proprio grazie alle grandi donazioni delle vedove dei senatori pensiamo a santa marcella santa paola quindi eh la chiesa c'entra fino a un certo punto o o l'ambito cristiano è più il discorso proprio eh patriarcale che eh è più recente più cioè è più antico nel senso che che risale anche al periodo romano o o nella stessa Grecia le donne sono tenute in bassissima considerazione e mentre eh sono esistite società matrifocali e matriarcali pensate che c'è un un etnia delle mosso le donne mosso nel nel sud est della Cina ehm praticamente loro eh vivono sempre nella loro casa materna e hanno una stanza dove la notte vengono raggiunte dal loro compagno di vita molto spesso sono monogame e si chiama unione itinerante tu rimani nella tua casa con tua madre con il fratello di tua madre che si prende cura della tua famiglia e ricevi in visita il tuo compagno il tuo amato ma non non vivrai mai con lui adesso diciamo che la politica cinese dura per sempre dura per sempre sono quasi tutti monogami sai e non c'è stato mai nella storia dei mosso un caso di femminicidio non conoscono femminicidio non conoscono violenza sono una cultura estremamente ehm legata alla cura del prossimo e per esempio loro se devono scegliere eh chi starà a capo della comunità la scelgono sulle basi di chi sa prendersi cura di più degli altri quindi in questa cultura matriarcale gli uomini vanno a trovare le donne le figlie femmini restano con la madre e e i figli ehm restano comunque con la madre sempre e poi il il fratello della madre si prende cura economicamente della famiglia così come il padre dei tuoi figli si prende cura dei nipoti quindi tu non sarai mai soggetta a pericoli di nessun genere perché sei eh comunque rimani sempre protetta all'interno del tuo nucleo eh familiare femminile nella linea femminile ok però io volevo adesso eh spostare l'attenzione su un altro aspetto che è quello del culto del corpo proprio perché prima abbiamo appunto parlato di Tinder del catalogo tanti anni di diciamo eh di berlusconismo lo possiamo dire eh tette e culi in televisione proprio alla all'ennesima potenza adesso c'è questo questo grande eh diciamo sbandieramento del del corpo della palestra dell'essere sempre perfetti dell'essere sempre a dieta quindi addirittura arrivando a non mangiare tant'è vero che un sacco di narcisisti uomini e donne sono sempre in tiro e non hanno questo rapporto con il cibo diciamo hanno un rapporto più di 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 morte rispetto alla eh al godersi la vita quindi la vita è proprio lontana da loro sì ehm nel narcisismo eh c'è un secondo me un vero e proprio eh una sorta di diventare cadaveri viventi dico io c'era una copertina di Vogue con dei modelli di genere neutro quindi non evidente non evidente evidente se fossero uomini o donne eh vestiti come con una divisa magrissimi pallidi con gli occhiaie e vestiti con eh degli abiti di una nota casa eh di moda mondiale importante questi abiti avevano la forma di una divisa scolastica la famosa divisa della pedagogia nera ricordate il film Fanny Alexander di Bergman ehm questa donna vedova vive con la madre le sorelle a due bambini e quindi c'è un mondo di maternage di allegria di gioia con le governanti le tovaglie di pizzo natale le fiabe improvvisamente questa donna sposa un vescovo sposando questo vescovo finisce la gioia dei bambini che vengono comunque relegati a quella che è un'educazione basata su eh premi e punizioni eh inginocchiarsi sui ceci eh le scarpe correttive vestirsi con divise eh strettissime che quasi li strangolano questo tipo di impostazione che si chiama pedagogia nera che è quella che poi ha dato il via a anche al nazismo lo stesso Hitler era comunque figlio di quel tipo di educazione lì bene questo tipo di impostazione è stata trasportata diremmo traslata da un punto di vista simbolico in quelle che sono le fotografie le sfilate dell'alta moda dove vediamo addirittura eh modelle che camminano con la loro testa sotto le braccia cioè i corpi eh vengono attraverso appunto comunque dei trucchi scomposti eh rappresentati con divise scolastiche mh mh sadomasochistiche eh magrissimi eh quindi nel totale rifiuto del cibo ma al di là di quello che è il pericolo anoressico che è stato tante volte denunciato di fondo c'è proprio l'esaltazione della morte e eh il rifiuto della vita che era tipico del mondo appunto anche dove c'erano le grandi eresie per esempio i catari nel dodicesimo secolo dicevano che questo corpo era immondo che andava comunque lasciato abbandonato e che l'anima e lo spirito avessero più senso o la stessa visione platonica la stessa visione del mondo greco il corpo è considerato come un qualcosa di cui non tenerne conto qualcosa da svalutare allora nel narcisismo da un lato abbiamo l'esaltazione del corpo attraverso tutti gli status symbol e quindi l'iper sessualizzazione mantenersi sempre competitive mentre prima la bellezza durava solo fino a un certo punto e la bellezza era una cosa anche rara essere sexy è la portata di tutti basta comunque vestire in una certa maniera spendere in cosmesi quindi l'iper sessualizzazione ci porta da una parte al proprio a mostrare questi nostri corpi in maniera indegna indecorosa dall'altra parte invece questi corpi devono anche scomparire questi corpi devono emaciarsi questi corpi non devono fare piacere e questo è il sadomasochismo che applica il narcisista il narcisista ti svaluta perché comunque non vuol farti provare piacere quindi non ti non ti accoglie sessualmente ti dice che sei grassa e quindi ti farà morire di fame ti dice che che sei brutta a me mi hanno detto addirittura che ero nana cioè comunque la svalutazione sul corpo arriva a dei livelli indicibili che noi diciamo di cattiveria ma in realtà è la maniera più feroce per ferirti e questo questa ferita che noi viviamo nei rapporti diciamo sentimentali di coppia è esposta sulle riviste di alta moda nelle sfilate nelle in tutti gli shot televisivi pensate a tutte le porcate di paolo bonolis che faceva immergere queste donne dentro le vasche con gli animali tutto questo che noi vediamo tutto questo è pura pornografia anche se non vediamo la nudità un corpo emaciato con una divisa da collegio un corpo iper sessualizzato quella è pornografia la pornografia non è mostrarsi dello sceno nell'atto sessuale magari perché alla fine quella è vita la sessualità l'atto sessuale anche se per scopi pornografici è sempre più vitalistico rispetto a quello che ci propongono questi folli anoressici dei desideri ma non magari ci fa una domanda chiede l'antropologia studia l'essere umano sotto diverse prospettive secondo lei il narcisista è rimasto fedele alle sue dinamiche nei secoli sì perché la prima cosa secondo me è la svalutazione del corpo la svalutazione del corpo e tutta la matrice cristiana che deriva dal mondo greco è in realtà un grande atto narcisistico la gran parte del clero è narcisista loro si privano del piacere privano il prossimo del piacere tutte le dittature detto nel senso poi non è vero però abbiamo tantissime realtà invece situazioni e vite nascoste che che si moltiplicano e vivono diciamo nell'ipocrisia assolutamente certamente però tutte le grandi dittature tutti i sistemi di controllo e di potere vogliono toglierci il piacere e questo è quello che fa il narcisista il narcisista è un piccolo dittatore è il piccolo dittatore che c'è in ognuno di noi attenzione e può emergere in alcuni periodi della vita ma soprattutto c'è nelle persone più malate frustrate certo assolutamente ma come dire è l'hitler della porta accanto bellissima questa basta un poco di zucchero ci chiede la pedagogia nera giustificato e ancora giustifica alcuni genitori con la scusa che lo fanno per te per insegnarti l'educazione ma infatti doveva venire questa grande anima che è stata maria montessori che in tutto il mondo è stata riconosciuta usannata e le cui idee sono state applicate nella scolarizzazione nella pedagogia che ci ha insegnato che noi non nasciamo brutti sporchi e cattivi ecco in cosa ci ha rovinato diciamo un certo cattivicesimo di vecchio stampo ci ha rovinato sul fatto che noi portiamo dietro un senso di colpa di indegnità di marchiatura di cattiveria noi non siamo questo ce l'ha insegnato una certa visione monastica come quella di santa el de garda dove la donna lei racconta piano medioevo che il massimo del piacere sessuale è quello che vive la donna durante il proprio orgasmo ed è una gloria che che viene innalzata verso dio ce lo racconta non so anche il vangelo della maddalena ho da poco tradotto questo libro bellissimo di megawatterson che è una femminista americana su maria maddalena dove quello che ci viene insegnato è proprio questo che non siamo brutti e sporchi e cattivi non meritiamo eh punizioni o forme di educazione ehm sadica e violenta tutt'altro quello che ci dice la Montessori è che nasciamo puri nasciamo ben disposti nasciamo nasciamo comunque in una condizione in cui che se veniamo lasciati liberi di fiorire eh portiamo con noi dei semi meravigliosi in alcune culture tipo quelle aborigeno australiano dei nativi americani la ad esempio ehm quando c'è stata la colonizzazione e e e e anche e quando poi sono andati i missionari pensate a quei film come mission qualcuno di voi l'avrà visto questi imponevano con forza quella che era la loro visione ma le culture indigene pur essendo a volte cruente avevano una visione della pedagogia dell'educazione e del bambino eh in assoluta antitesi e contrasto con quella che abbiamo vissuto noi pensiamo a tutti i bambini che nel dopoguerra sono stati chiusi nei collegi che venivano comunque dei risi se facevano la pipì a letto venivano rasati a zero venivano costretti a mangiare il cibo che avevano vomitato questa è pedagogia nera e questa roba se la portano dentro i nostri nonni i nostri padri i genitori degli uomini che magari si sono mal comportati con noi o delle donne che hanno fatto soffrire altri uomini allora emi stellina ci fa i complimenti dice che siamo finalmente la verità che si esprime brave e coraggiose grazie i dice non a caso stiamo vivendo una dittatura velata che a me non mi sembra tanto velata mi sembra abbastanza palese però va bene iana dice è peggio di una setta perché denunciare la società narcisista fa sì che ti isolino sì che dice emi stellina dice io ho un figlio di 19 anni e io 42 giorni fa mi ha detto vedendo un film di quelli degli anni 70 odio questi film in quanto rendono la donna un oggetto sessuale senza volontà e sono maschilisti meno male che c'è una nuova gioventù che vede con occhi diversi io lo credo tu anche hai un figlio fabiana una figlia insomma questi giovani sono proprio belli belli come il sole perché hanno una sensibilità diversa si noi abbiamo proprio preso il periodo peggiore veramente c'è quel bellissimo documentario di lorella zanardo il corpo delle donne dove lei ha messo insieme vent'anni di televisione italiana e ti fa vedere proprio quello che è successo al corpo delle donne sovraesposto e svalutato io ho scritto un pezzo che poi ho anche postato sul tuo profilo e quando appunto con colpo grosso e con il drive in è iniziato è iniziato è iniziato scusate un pochino d'acqua per favore è iniziato proprio il grande grande declino declino del del costume e degli italiani lì lì appunto berlusconi con le tv commerciali siamo passati dal maestro manzi alle tette di colpo grosso la zanardo adesso ha fatto un nuovo documentario che però non è accessibile su youtube forse solo a pagamento che è sull'identità dei volti e anche questo è molto interessante perché con le mascherine abbiamo perso tutti anche questo questo contatto con il volto e poi la parte sotto del nostro volto rappresenta proprio la nostra emotività quindi la nostra vita emotiva certo assolutamente questa cosa delle mascherine è terribile e proprio perché comunque cioè tu vedi gli occhi di una persona ma non vedi non vedi che espressione ha non vedi quanto è importante la bocca il sorriso quindi ecco chiaro qui stanno nominando francesca tutti drive in ciao darwin tutte proprio ciao darwin è proprio è proprio l'apoteosi delle allora quello che voi vedete a ciao darwin in maniera così plateale e poi quello che avviene nelle relazioni perché i gesti simboli le parole il salotto più pornografico d'italia maria dei filippi uomini e donne allora io me lo sono studiato per giorni e giorni il linguaggio intanto quando si esce con una persona si dà l'esclusiva dopodiché c'è lo scarto è vero cazzo non ci avevo pensato dopodiché c'è lo scarto quindi abbiamo prima l'esclusiva e te la devi meritare ti so fa un favore a portarti fuori sì poi la triangolazione adesso esco con quella con quell'altra e poi decido e tutte a fare a gara a chi è più buona più brava più bella lo scarto non vai bene ciao preferisco quest'altra finché dura perché poi non è detto e poi questa tina che se la prende con quella poveraccia un po più anziana quella gemma svalutandola continuamente con atti di feroce bullismo quindi quel feroce bullismo che noi vediamo lì e che viene visto da 5 6 milioni di persone per cui è normale è normale uno scherzo è un gioco quello unito a ciao darwin unito alle tette di drive in unito a la follia anche diciamo anche veramente psichiatrica di un tizio che sta a dieta perché deve essere magro che sfonda di palestra o che magari si fa di cocaina o prende psicofarmaci perché ricordiamoci che circolano anche tanti psicofarmaci che rendono instabili le persone le rendono morali la precarietà economica le gelosie gente che vuole rifarsi una vita e che invece non non se la può rifare perché comunque c'ha i figli i figli che vengono sbattuti da una casa all'altra famiglie allargate che poi dopo non si riesce a sostenere né emotivamente né tutto questo vuoi che non porti comunque ai femminicidi ai suicidi o agli omicidi certo decisamente un altro aspetto che abbiamo valutato insieme francesca è quello di notare come questi personaggi io parlo adesso de peppino il salumiere cioè non sto parlando di eh l'artista o chissà chi peppino il salumiere o eh Gianfrancesca all'alimentari non lo so per dire adesso per fare degli esempi sia con uomini che con donne cioè che veramente tutti adesso possono attraverso i social quindi attraverso l'avvento dei social avere una sorta di corte una sorta di ehm fan club quasi mi verrebbe da chiamarlo con le scuse più astruse che possano essere le poesie dell'ultimo minuto tutti sono tutti Hemingway adesso oppure oppure che ne so eh il libro scritto scopiazzando a destra e sinistra che poi non l'hai scritto manco te te lo sei fatto scrivere sono ormai tutti che scrivono tutti che fanno poesie tutti che fanno musica tutti che e sì ci si crea unendo a quello che dicevi tu prima la foto con il calice di vino con il crudo di pesce il corpo palestrato si crea anche quella sorta di invidia no perché poi magari il palestrato col calice di vino il crudo di pesce non paga lui paga papà o paga la sventurata di turno quindi magari non è ostenta una ricchezza che magari non è nemmeno sua ma l'importante questo mi fu detto da uno da un narcisista che conobi eh non non ci ho avuto una relazione ringraziando Dio ma è stata una persona vicina l'importante è che le persone sognino cioè loro loro se tu anche hai la barca da tre e mezzo è meglio che dici che so quindici perché le persone vogliono sognare quindi vogliono anche in un qualche modo suscitare suscitare invidia in chi li guarda e ammirazione un'ammirazione un senso di in irraggiungibilità allora intanto mh c'è un altro libro sempre dei ragazzi di Tlon che si intitola eh casa editrice Tlon tu non sei Dio loro ne hanno fatti eh due due importanti sui social uno è la società della performance quindi questo fatto di dover essere sempre eh al massimo della nostra perfettibilità proprio per essere eh rappresentati rappresentativi di noi stessi e quindi noi diventiamo poi alla fine un prodotto cioè in questo momento io e te siamo un prodotto si dice anche attenzione perché se non vogliono venderti niente il prodotto sei tu quindi da una parte tu sei il prodotto perché in quel momento ti stai vendendo ti stai svendendo al migliore offerente dall'altra parte il tuo ego il narcisismo si gonfia perché eh se non lo fai con un impianto etico culturale ma ti butti lì all'arrembaggio perché quello sono i tuoi cinque minuti di gloria è ovvio che acquisisci quel piccolo potere ora io mh ho conosciuto un sedicente poeta che aveva la sua corte dei miracoli e poi alla fine ho visto che questa corte dei miracoli che era tutta poi di donne comunque romantiche con questo mito del bello e maledetto con questo non erano un target di donne che io avevo frequentato frequentavo nella mia vita quindi ho scoperto un mondo che mi era sconosciuto ci sono tante donne ingenue pensionate che comunque pensate ragazzi alla alla truffa romantica la truffa romantica che l'ha visto ci ha dedicato un'intera puntata la 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 trasmissione sì lasciarelli e forse due puntate ha dedicato alla truffa romantica eh ma non ne sono vittime soltanto le donne anche gli uomini pensiamo a quella poveraccia di Pamela Prati quella è stata fatta veramente la truffa nel senso che comunque ehm questa manipolazione ecco l'atto estremo della manipolazione poi alla fine è proprio quella perché tu con il virtuale non comprendi più nulla il virtuale è veramente demoniaco e nello stesso tempo ti può permettere di 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 ingannare chiunque ma alla stessa maniera la relazione reale con un narcisista è come se fosse sempre virtuale è come se mancasse proprio l'approccio reale perché quello sta con la testa da un'altra parte perché comunque è un bugiardo perché magari si inventa o lei si inventa delle vite che non hanno che non hanno mai avuto e quindi eh sì esattamente questo in una società appunto come quella dell'ottocento dove tu il corteggiamento era cioè l'uomo il massimo valore per un uomo era quello di saper dimostrare di saper prendere un impegno se un uomo non era in grado di prendere un impegno doveva andarsi a nascondere erano sventurati un disgraziato nella società nei romanzi di di delle sorelle bronte orgoglio e pregiudizio tu dovevi solo che scomparire dalla faccia della terra se non non mantenevi l'impegno che avevi preso con una donna tutta la società era testimone dei tuoi comportamenti oggi questo non è più possibile perché appunto in una vita di sradicati e in una vita di gente che vai a pescare nel mondo virtuale che non sai né chi è né da dove viene né che 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 fa nella vita può incappare veramente dal caso psichiatrico al 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 nibale il cannibale di di turno e e quindi devo dire che molto attenti molto attenti allora intanto un pochino dai profili facebook si riesce a capire l'orientamento ideologico di una persona il linguaggio che usa eh il tipo di amicizie e di 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 cose che posta tant'è che lo stesso però eh ci sono però sì 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 però molto spesso poi noi le avvisaglie ce l'abbiamo subito dobbiamo stare attente al linguaggio al linguaggio a come utilizzano le parole al linguaggio anche non verbale a come camminano cioè se qualcosa dentro ci dice che non va bene quell'istinto dobbiamo ascoltarlo io comunque ho preso parecchie fregature negli ultimi anni quindi sì 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 eh diciamo che qui purtroppo più poi più cresci giustamente stavi dicendo tu più cresci più è difficile perché comunque si restringe un po' il cerchio e quindi magari inizi la relazione con un uomo che poi non perdo occasione di dirti eh ma in fondo tu sei vecchia per esempio ti svaluta ancora di più io a me scrivono tante tante donne intorno ai 50 anni che magari vorrebbero rimettersi in gioco ma hanno una paura fottuta e ci credo sì allora purtroppo il famoso mito di berlusconi eh è caduto in basso nel nelle aree veramente più basse perché eh se il cinquantenne eh un uomo di 50 60 anni spesso vuole donne più giovani spesso c'è un po' di tutto devo dire che poi alla fine però eh quello è il periodo più delicato per una donna perché eh sai chi sei sai quello che vuoi e e sai anche esprimerlo con chiarezza e quindi se non hai davanti a te una persona che è onesta altrettanto eh rischi comunque di passare per presuntuosa per arrogante e poi una donna più giovane è facilmente più manipolabile rispetto ad una donna più matura cioè io a 30 anni a 40 ero molto manipolabile a 40 sono caduta in trappole veramente eh che che oggi mi metterei a ridere perché ehm e invece poi con gli anni ho cominciato a capire eh tutti i meccanismi ma poi io non penso neanche che queste persone siano in mala fede secondo me c'è una sorta di droga emozionale diventano molto spesso ho conosciuto un uomo che dopo la separazione attraverso i social in quattro anni ha conosciuto e ha avuto un centinaio di donne e lui dice che comunque questa è diventata come una sorta di droga nel senso che tu hai bisogno di questo approvvigionamento emozionale continuo quindi hai ti ricordi quando parlavi tu Giulia sempre dell'adrenalina up e down cortisolo adrenalina cortisolo adrenalina hai l'adrenalina solo nei momenti iniziali della conquista nelle prime volte che fai l'amore e già dopo due mesi tre mesi di cui l'adrenalina scompare quindi provochi la lite per andare subito in cerca e a caccia di nuovi di nuovi tu come li chiami eh nuove prese no ma anche nutrimento nutrimento emozionale eh esatto e quindi diventa una vera e propria droga tant'è che la Veronica Lario scrisse sui giornali aiutate mio marito a curarsi perché eh è malato probabilmente è la stessa sindrome ehm io credo che siano forme di dipendenza e che sono ormai alla portata di tutti veramente di Peppino il malandrino così come di di a poi c'è una famosa frase che mi dicono sempre la la frase famosa è ma se anche Brad Pitt si è stancato di Angelina Jolie come puoi pensare che i rapporti durino tutti si stancano di tutti pensa un po' con con che belle Giulia andare avanti mi senti voi ci sentite? Sì 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 e questo però per farti capire che anche che anche tutto il mondo tutto il mondo poi del dei gossip dei giornaletti questi scandalistici non fanno altro che alimentare questo cambio ricambio continuo di partner eh quindi anche alla base del narcisismo c'è comunque questo desiderio di ricambio continuo il famoso ricambio no il ricambio per avere altre emozioni per avere altri poi a volte si tengono una o uno che quella si fa base sicura per poi avere altri rapporti paralleli questa della base sicura però mia nonna diceva sempre parli sempre la base sicura no scusami finisci prima tu dici dici che cosa diceva tua nonna poi dico io no diceva io non ti capisco nonna era romana a me mi pare solo che mi parli di de uno stronzo cioè nonna diceva appunto non sono narcisisti sono semplicemente stronzi ai suoi tempi era così però anche ai suoi tempi gli uomini comunque scomparivano ma non voglio però adesso parlare solo male degli uomini ci sono bravi uomini che stanno vicino alle loro compagne alle loro mogli che le sanno sostenere ci sono soltanto che se li sono presi e se li tengono stretti certo a parte quello poi sai io stavo facendo una riflessione ho pensato anche il riferimento alla domanda che mi hai fatto prima secondo te questa è una diciamo una problematica mediterranea no comunque del sud del mondo e io penso proprio di sì anche perché noi abbiamo questa necessità come società appunto del sud di avere una rete familiare perché chiaramente se io per esempio mettessi al mondo un figlio mio figlio dovrebbe pensare con mia madre se io vado al lavoro quindi io ho bisogno di avere mia madre accanto come pensionata che mi guarda il ragazzino un esempio stupido di di ciò che non esiste per esempio nel nord Europa perché il nord Europa c'è un bellissimo documentario che si chiama la teoria svedese dell'amore che io nomino sempre ci indica come tra le varie tragedie che esistono pure lì a livello di anziani che muoiono da soli donne che scelgono dal catalogo la provetta il bambino insomma è proprio finita la famiglia non esiste non esiste non esiste più nel nord Europa e diciamo mentre invece noi abbiamo più un'esigenza di questa rete familiare per poter andare avanti e poter appunto vivere una vita normale perché non abbiamo lo stato che ci aiuta in svezia metti al mondo un figlio dopodiché ci pensa lo stato il governo a pagarti tutte le spese l'asilo eccetera con questa premessa è anche vero che ho notato questo rapporto della madre italiana con il figlio che poi spesso ha tratti narcisistici no quindi questa questa sorta di questa madre molto soffocante una madre molto anche quasi un po' piovra che è tipica delle regioni nostre cioè tipica italiana e tipica del sud del mondo perché appunto in nord Europa 18 anni ti danno un calcio ti buttano fuori casa e te la devi vedere da solo mentre invece che cosa succede cioè dove voglio arrivare che spesso questi uomini italiani per tornare sugli uomini ma anche le donne hanno alle donne narcisiste o presunte tali hanno un rapporto morboso con la madre quindi è sia di là che di qua tant'è vero che molti uomini mi dicono mi sembra di essermi sposata con lei e con la madre dall'altra parte diciamo l'uomo narcisista con questo tipo di madre altro non vuole che poi trovare una sostituta di questa madre cioè anche questo culturalmente proprio perché vogliamo parlare della cultura del è un una fetta importante ecco che una madre che non aiuta a crescere dice anche giustamente basta un poco di zucchero sì il grande psicanalista jungiano credo neumann diceva che in italia era impossibile praticare la psicanalisi proprio perché questa figura della grande madre mediterranea fagocitava tutto e certo che sì le madri italiane sono state disastrose soprattutto con i figli maschi perché hanno creato quello che appunto ottavio rosati chiamava poi il doppio legame la dipendenza con questa ossessione per il cibo questo perdonarli poi sempre tutto ed anche sostituirli molto spesso ai mariti perché comunque sia la donna italiana eh questo difetto questo vizio soprattutto nella generazione passata ce l'ha avuto di sostituire il marito con il figlio molto spesso con quello più piccolo il l'ultimo della famiglia è sempre poi quello che viene sacrificato in tal senso e sì 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 la figura del maschio italiano subisce risente della della madre ti faccio l'ultimissima domanda francesca poi ti lascio andare consigli per per uscirne chiede maria luisa chiaramente a livello globale cioè a livello umano non uscire proprio dalla relazione tossica cioè cosa dovremmo fare a livello societario per uscire da questa situazione che stiamo vivendo adesso ma intanto lavorare tantissimo sulle giovani generazioni io l'ho fatto e lo faccio continuamente educare sentimentalmente i propri figli sia maschi ma anche femmine quindi educarli poi all'autostima e l'autostima appunto indicare quali sono i loro punti di forza eh accoglierli proprio in tutta la loro bellezza e dar loro sicurezza in tal senso e non praticare mai la svalutazione con le persone che abbiamo accanto a noi e questo già ti ti fa comunque crescere in una dimensione di sicurezza e di e anche di di accoglienza nei confronti degli altri e fare un lavoro anche di etico di di capacità di capire ehm qual è il limite cioè il limite che ci dobbiamo porre noi non siamo illimitati non lo siamo dal punto di vista scientifico non lo siamo dal punto di vista delle relazioni dobbiamo darci un limite è quello appunto che diceva Bauman quando parlava dell'amore liquido di tornare a darci un limite di passare dall'emozione ai sentimenti che non è il sentimentalismo ma è semplicemente come diceva Claudia Cardinale imparare a voler bene a volersi bene attraverso proprio un lavoro di anche rituale prendersi cura del proprio corpo prendersi cura di se stessi non in maniera narcisistica ma in maniera terapeutica eh volersi bene tra le persone che ci sono accanto imparare a voler bene il bene dell'altro e il bene nostro voler bene è più importante dell'amore nel dialetto romagnolo non esiste per esempio il termine ti amo ma ti voglio bene che ha la stessa natura ed è ancora più forte di ti amo perché io voglio il tuo bene quindi sì assolutamente ti ringraziano tutti Francesca e ti ringrazio anche io grazie e poi ci vediamo presto e poi magari metto sotto alla descrizione del video e anche magari che ne so il link per accedere al tuo blog il giardino del tuo sito così magari possono venire a trovarti va bene va bene Giulia grazie grazie e vogliamoci bene e vi voglio bene anche io ciao grazie franci ciao 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 allora eccoci qui cari amici grazie grazie a voi grazie ancora a Francesca Serra andiamo a spegnere la nostra candela insieme che possano tante belle cose entrare nella nostra esistenza e che possano tutte queste informazioni che ci siamo scambiati muoverci qualcosa dentro perché è chiaro che adesso faremo dei sogni sicuramente ci ha aperto questa situazione tanti tanti cassetti interiori allora io vi aspetto la settimana prossima con l'avvocato Antonella Liguori e con Fabiana faremo una diretta in tre che meraviglia l'argomento ve lo sveremo tra qualche giorno grazie Fabiana per l'appunto grazie Magica Emi grazie Nina grazie Alessandra ragazzi basta un poco di zucchero Liliana ciao ciao Angela Emi Stellina Franca Manu Manu Luisa eccetera eccetera grazie mille a tutti voi e ci vediamo prestissimo su tutti i social buonanotte